Macolinea! Fare meglio a pensare alle tue ultime parole. Scegli, tomba o prigione? Troppo! Ma quando devo morire? Stop! No, no, no! Quando lui ti spara, tu devi morire! Rifacciamo! Ciacchi in campo! Motore! Motore partito! Tomba o prigione, take 53! Azione! Ma io agonizzo o muoio solo? Stop! Basta! Pausa ragazzi! 15 minuti! E tu devi morire! Forza ragazzi! Ripartiamo! Dai, dai, dai! Forza ragazzi! Ripartiamo! Dai, dai, dai! Gli onovle si calmo per brick!!! Capisco il campo! Ciacchi in campo! Tomba o prigione, take 54! cinquanta qua azione bene bene ora conoscete la mia storia è tutta colpa del cinema ed è tutta colpa dei fratelli lumià il 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 Grazie per la visione!